Ciao a tutti da Bruxelles. Allora, il 9 maggio si è conclusa la conferenza sul futuro dell'Unione Europea. Si è trattato di un'iniziativa durata un anno, pensate, con un sito dedicato, una piattaforma per raccogliere le opinioni di tutti i cittadini, gruppi di lavoro formati da appunto cittadini, da membri di associazioni, parlamenti nazionali e membri del Parlamento Europeo, ed eventi organizzati in tutti i paesi dell'Unione Europea. Lo scopo era quello di discutere su come, tenetevi forte, cambiare l'Unione Europea. Allora, la conferenza si è conclusa appunto, quindi se avete partecipato bene, se no non potete più farlo. Tuttavia, attenzione, tra le conclusioni di questa conferenza c'è una cosa veramente, veramente interessante, ovvero la possibilità di cancellare il diritto di veto dei paesi membri. Che roba è? Boh, cosa cambia? Vi starete chiedendo. No, no, guardate, è veramente, veramente importante, perché è l'unico modo per cambiare veramente l'Unione Europea. Adesso vi spiego perché. Allora, l'Unione Europea viene spesso accusata di non fare niente in una determinata situazione, o di fare troppo poco, o di essere troppo lenta, insomma, di non andare mai bene. Però attenzione, molto spesso, non sempre, ma molto spesso, questo succede perché non può. Ovvero perché le regole del gioco, così come sono scritte oggi nei cosiddetti trattati fondamentali dell'Unione Europea, non danno alle istituzioni europee il potere di poter fare delle cose, di poter essere veloci, agire e di fare quello che vorremmo facesse. Vi faccio qualche esempio. Per approvare il cosiddetto Recovery Fund, quel fondo da oltre 700 miliardi di euro stanziato per aiutare i paesi più colpiti dalla pandemia del Covid, ci sono voluti ben quattro giorni di summit a Bruxelles, perché un paese, uno solo, non era d'accordo, i Paesi Bassi. E ci sono voluti appunto quattro giorni per convincere, a dare l'ok, perché c'era bisogno di stanziare quei soldi, perché eravamo in piena pandemia, eccetera, eccetera. E così è successo per tantissime altre questioni. Per il Recovery Fund i Paesi Bassi non erano d'accordo. Mettiamo le sanzioni a gas e petrolio la Russia? L'Ungheria non vuole. Aboliamo la seconda sede del Parlamento Europeo, che costa tantissimo e non serve a niente? La Francia non vuole. Aiutiamo l'Italia a gestire l'immigrazione annullando il Trattato di Dublino? Beh, in questo caso sono tanti i paesi che non vogliono, infatti non si fa niente. E di casi così ce ne sono tantissimi, perché appunto ad oggi ogni paese ha il diritto di veto. Ma che unione è un'unione dove basta un membro su 27 a non essere d'accordo per bloccare tutto? In un'unione democratica si decide a maggioranza, o perlomeno a maggioranza qualificata, come si chiama, ovvero quando il 60, 70, 75% dei membri sono d'accordo, allora quella cosa si fa. Ebbene, la conferenza sul futuro dell'Europa ha detto proprio questo. La cancellazione del diritto di veto non deve più essere un tabù. E il giorno dopo, infatti, 13 paesi membri hanno detto che no, deve restare un tabù. Gli stessi che poi si lamentano se l'Unione Europea non fa abbastanza, perché bla 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 bla. Ecco, quindi la conferenza sul futuro dell'Europa è finita, ma il mio consiglio è state molto attenti. Quindi seguitela questa faccenda, perché se volete che l'Unione Europea cambi veramente, bisogna partire dal diritto di veto. Però attenzione, può anche capitare il caso in cui l'Italia, se l'unico paese, che non è d'accordo a fare una cosa e poi la deve fare per forza. Grazie. Grazie. Grazie.